Bene amici di Android Blog, benvenuti, questo è il Versus tra due telefoni della stessa famiglia, l'HTC One e l'HTC One Mini. I due telefoni presentano un formatter che è praticamente molto simile, stesso alluminio, qui in colorazione nera, qui in colorazione silver, argento. L'unica differenza è nella banda laterale che in questo caso è una fascia nera di qualità più pregiata, nell'altro caso invece è una plastica bianca che è comunque di buon livello. Cosa dire quindi per il 4Factor? Secondo me sono due telefoni splendidi. Uno secondo me è molto più compatto, molto più maneggevole, dove l'HTC ha lavorato più che altro non tanto sull'altezza del telefono, dove vedete non c'è grandissimissima differenza, sono davvero pochi i millimetri che sono di differenza tra l'altezza. Invece ha lavorato molto su quella che invece è la larghezza del dispositivo togliendo una bella fetta di schermo. Quindi buona anche l'economicità dell'HTC One Mini, quindi questo verso si riferisce più che altro a chi è in dubbio per quanto riguarda la scelta di un telefono magari un pochino più grande, un pochino più ingombrante, ma con delle prestazioni superiori, quad-core contro un dual-core per quanto riguarda l'HTC One Mini, uno schermo a 5 pollici, un HD contro i 4,3 dell'HTC One Mini, e però tutte le altre caratteristiche HTC BlinFeed che sono presenti su entrambi i dispositivi, e sempre la solita classica fotocamera ultrapixel anche sull'HTC One Mini e tutto il pacchetto software di HTC. Quindi, avendo visto, avendo parlato un po' in generale, andrei a parlare anche un po' più all'interno dei dispositivi, direi che la ricezione è ottima su entrambi i dispositivi, anche se la ricezione Wi-Fi è un pochino superiore per quanto riguarda l'HTC One. Andrei a mettere l'umorosità massima su entrambi i dispositivi. Vediamo un po' se... ok, qui c'è già, e già qui si può vedere come i due telefoni siano da una buona luminosità, abbiano entrambi una buona luminosità, secondo me il One Mini ha una luminosità un pochino lievamente più alta. Detto questo, andrei allora a prendere, vediamo un po' dove l'ho messo, il GPS status sull'HTC One, sperando di averlo scaricato, mi sembrava di sì, ora non riesco a ritrovarlo. Vediamo un po'. Altrimenti se non l'ho scaricato lo scarichiamo in diretta, non ci facciamo problemi. Ok, sì, non l'ho scaricato, vabbè, andiamo bene. Lo scarichiamo subito, vediamo come va il GPS. Io ho provato ad andare in giro con Maps, devo dire che non ho trovato nessun tipo di problema con questo HTC One. Allora, vediamo un po' di andare ad attivare il GPS. Allora, vediamo un po', vediamo un po', posizione, eccolo qua, satelite il GPS, perfetto. Vediamo un po' se l'HTC One Mini, se sono attivi, impostazione, vedete come è uguale anche... Ah, ecco, andiamo un secondo a vedere questo anche, impostazioni, così magari ci rendiamo conto. Guardate come è uguale anche questa interfaccia, praticamente i telefoni sono, come dire, due fratelli, fratello minore e fratello maggiore. Andando in memoria, però, c'è una piccola differenza, perché in questo caso abbiamo 32 GB liberi, in questo caso 16 GB liberi. Però, per fortuna, sono davvero 16 GB e sono davvero 32 GB. Cioè, non abbiamo magari 16 GB e poi ce ne lasciano 10, 11, come magari abbiamo visto su altri tipi di dispositivi. Quindi, andrei qui a accendere anche in questo caso il GPS, in questo caso l'ho lasciato già acceso, perfetto. Apriamo stasso su GPS. E vediamo un po' come va su entrambi i dispositivi. Su Maps, io ho navigato sul navigatore Beta di Maps, devo dire che non ho avuto nessun problema sia sul One sia sul One Mini. Vedete come il One sia molto reattivo, ha già preso 6 satelliti, ne vede già 23, ora ne ha presi 8 e ha già preso la posizione. Il One Mini ne vede già 23, però sicuramente ci metterà un pochino più di tempo, però mi dà già... Il One mi dà già, vedete, si è già stabilizzata la posizione. Qui sta ancora cercando. Vediamo un po', ecco, si è agganciato a un satellite, vediamo un po' se riesce ad agganciarsi anche ad altri, però direi buona, buona questa cosa anche per il One Mini. Vedete, è già agganciato a due. Direi che il GPS funziona bene su entrambi i dispositivi, dai. È normale che il One sia un pochino più performante, ma anche il One Mini, vedete, quando ne prende, ne prende 4, 5. E vi dico che altri dispositivi che costano molto più del One Mini che ho provato sempre in una solita mia stanza dove faccio le recensioni, non hanno avuto questi risultati, quindi sono più che soddisfacenti. Andando a parlare poi di client mail, direi di aprire queste due mail, facciamo mostre immagini di entrambe le situazioni, vedete che per quanto riguarda sia HTC One che One Mini, non posso fare il resize della mail, quindi le file funzionano bene, ma bisogna andare destra e sinistra per leggerle tutte quante. Per quanto riguarda invece, andando a parlare poi di schermo e di fotocamera, andrei quindi a vedere prima su Dropbox, vediamo un po' se... ah no, ok, la password l'avevo già messa, quindi non devo mettere niente, andiamo subito in test. Andiamo anche su Dropbox, vediamo se devo mettere la password invece di qua, sul nostro HTC One, vediamo un po' dove ho messo, dove ho fatto finire Dropbox, ok, perfetto, l'ho trovato, e ho messo anche la password, ok, quindi andiamo nelle mie foto di test, ok, ci siamo, perfetto, foto nera, direi che siamo su buoni, su buoni livelli, il nero non è un nerissimo, quindi abbiamo dei bolneri su entrambi i dispositivi, non abbiamo sicuramente dei neri nerissimi, profondi, ma di buona qualità. I bianchi sono anche essi di buona qualità, c'è un buon contrasto, nulla da dire, anche per quanto riguarda i colori, l'ho visto prima questa fotografia, mi sembra che siamo praticamente sui stessi livelli, forse naturalmente un pochino più di definizione sull'HTC One, ma i colori hanno una buona visibilità. Per quanto riguarda invece i video in 1080p, vi proviamo a leggere su entrambi i dispositivi, scegliamo WLC per riproduzione, aspettiamo un attimo, visto che sono i streaming, ok, il mini è arrivato, è arrivato anche il fatale maggiore, facciamolo partire prima sul One, ecco qua, sperando che... ok, eccolo qua, è arrivato. non fate caso ai blocchi, purtroppo sto scaricando, o meglio, non scaricando, ma uploadando diversa roba su YouTube, e quindi c'è un po' più di problema sul Wi-Fi, ma direi che il video funziona, si vede perfettamente, adesso è un tipo di problema, non fate caso a questo blocco, perché è dovuto alla mia rete Wi-Fi, che in questo momento è un pochino intasata. ok, qua si vede che sono uscito, nel frattempo che volevo... ok, quindi torniamo su Dropbox, ok, facciamo ripartire il video, ecco qua, diamogli un attimino di tempo, perfetto, quindi i 1080p si vedono bene anche, ora non fate caso ai blocchi, il video è fluido, si vedono bene, quindi oltre ai 1080p si vedono anche bene 720p, e anche gli FLV e gli MKV vengono riprodotti su entrambi i dispositivi, quindi direi una buona cosa, anche e soprattutto per i One Mini, visto che lo schermo non è full HD, il processore non è un quadro, ma devo dire che non ha problemi nella riproduzione dei video full HD. Bene, allora andiamo a sentire rapidamente anche una canzone, per vedere anche la qualità audio, visto le potenti casse che sono state inserite, la fiammo prima da un lato, poi dall'altro, non c'è nulla a dire, la qualità audio dell'HTC One secondo me è fantastica, e devo dire, devo dire che questo One Mini, nonostante non abbia la potenza musicale del fratello maggiore, devo dire che si comporta molto molto bene con le casse audio, davvero nessun tipo di problema, è davvero un'ottima qualità musicale, ripeto, non siamo ai livelli del fratello maggiore, ma mi piace, mi piace, secondo me siamo su ottimi livelli, anche superiori rispetto a tanti altri dispositivi molto più blasonati, devi stoppare questa installazione di mie applicazioni, speriamo che si sia stoppata, visto che volevo provare un attimino il browser con voi, andrei quindi, ecco, su Android Blog, da un lato, dall'altro ha già aperto The Verge, quindi vabbè, apriamo un'altra pagina, andiamo a vedere quindi The Verge, poi torneremo su Android Blog, ok, ho sbagliato, ho scritto The Verge, colpa mia, lo andiamo a cambiare subito, ok, perfetto, è arrivato, versione mobile, stava aprendo, vi faremo aprire poi subito dopo la versione, la versione invece full site, eccoci qua, allora, abbiamo la versione full site da un lato, dall'altra facciamo ripartire il sito, vediamo un po' che arriva prima, e come si comporta l'arrivo, il credibilmente il primo ad arrivare, è proprio l'HTC One Mini, e devo dire che la qualità browser di entrambi i dispositivi è più che buona, andando a fare il doppio tappi, il sites è perfetto, stile HTC su entrambi i dispositivi, nessun, davvero nulla da dire, nessun problema, quindi direi che abbiamo visto un po' tutto, direi semplicemente di andare a parlare a questo punto di fotocamera, che praticamente ha le stesse caratteristiche su entrambi i dispositivi, stesse funzionalità, stessa HTC Zoo, allora qui andiamo subito a vedere le immagini che ho scattato, e che quindi possiamo andarci a vedere, ecco, qua abbiamo HTC Zoo, giornata davvero, davvero, ventilata, quella dell'altro giorno, guardate come è venuta bene questa foto con HTC Zoo, se possiamo chiamarla naturalmente foto, per quanto riguarda invece, HTC One, l'avevo fatta, eccola questa, perfetto, anche con HTC One, guardate come è venuta bene anche sul One, direi che siamo sui stessi livelli, quanto riguarda le foto invece, ecco, fatte fuori, prendiamo una foto, magari, ecco, con un po' di dettagli, direi che le foto vengono un pochino meglio sull'HTC One, però anche il Mini si difende abbastanza bene, messe però al computer secondo me con un buon ingrandimento sgranano entrambe, per quanto riguarda invece le foto con scarsa luminosità, direi che siamo su buoni livelli, vengono fatte entrambe bene, forse un pelino, un pelino anche in questo caso, migliore la foto fatta dal One, dal fratello maggiore, per quanto riguarda invece i video, dov'è che si trova, vediamo un po', ci andiamo a vedere prima quello dell'HTC One, poi vedo a ritrovare dove ho messo quello dell'HTC One Mini, bene ragazzi, stiamo realizzando questo video con l'HTC One, per poi andarlo a confrontare con la qualità fotografica del Galaxy S4, e per vedere anche come si comporta il fratello minore rispetto a quello maggiore, quindi il Mini contro il One in versione normale, questo era lo zoom, vediamo quindi anche l'adattamento ai cambi di luce, direi che è abbastanza rapido, quindi niente, questo era il video con l'HTC One, bene, quindi questo è il video con l'HTC One, adesso dobbiamo vedere quello con il One Mini, e poi faremo le dovute considerazioni, quindi questo è il video invece con l'HTC One Mini, stiamo realizzando questo video con l'HTC One Mini, oggi è una giornata un po' brutta, un po' piavosa qui da me, quindi direi che è meglio rimanere un po' più indietro rispetto al solito, proviamo quindi anche lo zoom per vedere un po' come lo fa il dispositivo, andiamo un pochino indietro, direi che lo zoom non sgrana particolarmente, magari già a questa distanza, e vediamo anche poi l'allattamento alle condizioni di luce, quindi questo era il video con l'HTC One Mini, quindi un video comunque buono, di buona qualità, di buona fattura, magari meglio è però quello con l'HTC One sinceramente, bene, per quanto riguarda invece poi i giochi, purtroppo non è possibile scaricare Asphalt 8 su Mini, perciò giocheremo ad Asphalt 7, sul Mini, ma sul One possiamo giocare tranquillamente ad Asphalt 7, Asphalt 8, ecco di qua, giochiamo prima con il Mini, c'è stato qualche problema mi sembra con il One, ma dovrebbe partire, visto che avevo già, forse qualche problema di Wi-Fi, ma avevo già scaricato tutto il gioco, quindi, ok, eccolo qua, ok, perfetto, ci siamo, allora facciamo partita veloce sopra, abbassiamo un po' il, mi sembra che ho sbagliato a cliccare, mannaggia, vabbè, ora andremo a, non dovrei aver cliccato, vediamo un po' dove siamo andati a finire, vabbè, va bene anche questo, ok, siamo pronti, ecco, vedete come il gioco praticamente non ha alcun tipo di problema, ora, vabbè, questo è un tutorial, qui mi dice, l'ingrino a destra e a sinistra per andare, ma, ecco qua, direi che il gioco è fluido, non ha problemi, anche quando vado a mettere il NOS, quindi, nessun tipo di problema con l'HTC One, con il piccolo invece, con il Mini, maggiore versatilità, maggiore compattezza del telefono, quindi più facile magari sterzare, più leggero, e, eh, nessun tipo di problema per Asphalt 7, vi ricordo che Asphalt 8 non è disponibile ancora per il Mini, ma il 7 funziona benissimo, riusciamo tranquillamente a giocare, anche guardate come risponde benissimo alle mie, ehm, ai miei comandi, non c'è nessun tipo di problema, anche quando si va a chiedere maggiore accelerazione, quindi si deve ammettere il NOS, bene, quindi direi che i due dispositivi sono di estrema qualità, ehm, si sceglie il Mini solo per avere delle dimensioni più compatte del telefono, cioè nonostante abbiamo dimensioni più compatte, ma, comunque, prestazioni che, se non sono paragonabili, comunque si vanno di molto ad avvicinare quello del, alle prestazioni del One, eh, quindi del fratello maggiore. Direi quindi che è tutto per questa, per questo confronto tra, tra i due, eh, telefoni della famiglia HTC, ci vediamo alla prossima, Mauro, Mauro degli Innocenti per Androidblog.it, ciao! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!